quando pinuccia salì sulla terrazza della signora e vide tre cesti gonfi di lenzuola da stendere si sentì male cominciò subito a tossire prima colpetti leggeri e poi sempre più forte fino a farsene uscire le lacrime non c'era un filo d'ombra il sole quello di mezzogiorno e un'ora circa di lavoro il sole sarebbe rimasto sempre in alto pinuccia non sapeva leggere l'ora i numeri fino a due cifre sì però almeno li scrivessero su tutti gli orologi i numeri no spesso non li scrivevano e mettevano al loro posto fastidiose stenghette come sull'orologio nella cucina della signora ma il sole lo leggeva e fra un'ora il caldo sarebbe stato lo stesso anzi decisamente di più riprese a tossire no non avrebbe funzionato e poi ci aveva già provato lo scorso inverno la tosse quella vera come il piccolo della signora che non la faceva dormire lei non l'aveva mai allora aveva sentito dire da un amico illustre della signora che stavano sempre da soli quando il suo marito non c'era e che non si potevano disturbare se no erano guai dai attenta che quella tosse mischia a chi gli sta vicino pinuccia era andata da sua sorella maggiore che pure lei lavorava nella casa della signora e le aveva chiesto mischia è come quando faccio il caffè con il latte alla signora la mattina sì pinuccia con pazienza le aveva risposto due cose anche più di due che vanno insieme pinuccia immediatamente comprese che la tosse del piccolo che accudiva ogni notte poteva essere la sua queste cose le piacevano quando sua sorella gliele diceva le capiva la tosse del piccolo si poteva mescolare alla sua come il latte al caffè della signora e cominciò a tossire e tutti si preoccuparono l'amico della signora parlò persino di una epidemia da starci attenti anche noi mia cara e la misero in un'altra stanza vicino però che se il bambino si svegliava poteva sentirlo che loro ci avevano da fare quando il marito della signora non ci stava continuò a tossire come il piccolo ancora per un po e smise quando lui guarì avevano persino chiamato un dottore anche per lei lo stesso del piccolo una luminaria come una luce che però aveva detto i polmoni a questa non tengono niente una fibra robusta era andata da sua sorella a chiedere sta fibra che vuol dire nemmeno lei lo sapeva ma robusta lo sapevano tutte e due che significava grossa pinuccia era grossa ma ma gli uomini una volta la signora le aveva detto piacciono le grosse chissà perché e poi perché bisogna piacere agli uomini perché così poi fai i bambini le aveva detto una volta sempre sua sorella i bambini come quello della signora che non la faceva dormire e da sveglio pure i dispetti le faceva e poi sua mamma quando era viva raccontava sempre alla commare quanto fosse stata dolorosa la nascita di pinuccia un buco squarciato ma quale e poi mamma quando raccontava i fatti alla commare aggiungeva sempre un particolare spaventoso comunque no tossire non avrebbe funzionato questa volta riguardò i cesti delle lenzuola e si sporse dal colo d'ombra della porta spalancata della terrazza era davvero caldo proprio non ce la faceva ci voleva un'idea migliore vado da mia sorella e svengo così tutti accorrono e io le lenzuola pesanti non le stendo avrebbero chiamato pure la luminaria no non avrebbero trovato malattie poi il piccolo era ormai guarito bisognava trovare una soluzione e lei non amava trovare da sola le soluzioni andò dalla sorella e le disse la verità a voce bassa e veloce veloce si tappò pure le orecchie per la vergogna non ce la faccio a stendere i panni della signora fa troppo caldo ma lei stava cucinando per la signora e moriva di caldo pure lei distrattamente rispose muoviti pinuccia oggi non ti posso aiutare le venne a quel punto in mente lucia un'altra governante come non averci pensato prima non ci aveva dormito la notte al racconto di sua figlia mariuccia che per colpa delle sue prime cose ci aveva chiamato la luminaria e lui aveva detto alla sua signora mi raccomando questa adesso non deve lavorare se no vi mando i controlli che ancora non tiene l'età e mariuccia era rimasta a letto e per una settimana non aveva lavorato lucia le aveva parlato di sangue sgorga a fiumi aveva detto e come le piaceva quella parola sgorga pareva che ci uscisse un liquido dalla bocca quando succede poi ci vuole dell'acqua calda acqua calda con quest'afa si era chiesta pinuccia l'idea non le piaceva ci voleva poi qualche dettaglio in più oltre il sangue i dolori che so dove vengono lo andò a chiedere come sempre a sua sorella che lei le sue prime cose le aveva già avute sulla pancia pinuccia da morire sulla pancia che ti devi mettere la mano sopra e poi va in bagno no no certe volte vai certe no la risposta la rassere no simulare un'evacuazione lei che in bagno per la vergogna soprattutto andava così poco risalì al secondo piano riguardò le lenzuola e con tutto il fiato che aveva gridò maria santissima vergine la signora era molto religiosa lei e l'amico quando il marito non c'era dopo che non li aveva disturbati si inginucchiavano di fronte al quadro della madonnina che dolori e gridò gridò così tanto che tutti accorsero pure la signora alla quale disse stringendosi la pancia con le mani scusate signora c'ho le mie prime cose arrivò la luminaria non riscontrò nulla per la verità ma questo mi pare un poco piccola ancora così disse può anche succedere e pinuccia per una settimana si riposò